Presentiamo una startup, Andrea Cinelli, Connect da Invenzia. Di cosa parliamo? Buongiorno, di cosa parliamo? Parliamo di videocomunicazione utilizzata per vendere e per offrire nuovi servizi. Parliamo di un modo nuovo di gestire la relazione con il cliente. Parliamo di utilizzare la videocomunicazione come uno strumento per portare una relazione con il cliente ovunque e su qualsiasi mezzo. In particolar modo, per esempio, qui siamo a Salerno, basta entrare in una filiale di che banca e voi troverete che quella filiale è basata totalmente sulla nostra tecnologia. Siamo una startup per modo di dire, 20 dipendenti. Quest'anno abbiamo ottenuto il Cool Vendor Gartner 2015. Siamo quindi tra le prime due o tre tecnologie emergenti nel mondo della videocomunicazione a livello mondiale. Abbiamo già dei contratti distributivi negli Stati Uniti e in Nord Europa. Principali produttori di banco, ma altri che utilizzano la nostra tecnologia. Grandi player che vendono la nostra tecnologia per importanti progetti. E poi uno di questi, per esempio, come dicevo, oggi eravamo qui con la banca più vecchia del mondo, che è il Monte dei Paschi, che utilizza per il loro progetto di portare nuovi servizi, ma di ricreare il modello bancario, la nostra tecnologia. A Milano, ad esempio, come a Siena, in altre, penso, 700 filiali, stanno portando la loro tecnologia per portare un consulente, che non è solo un consulente che può interagire con te per parlare, ma può interagire con te a distanza, emulando le azioni umane, che non si possono fare in questo caso perché non c'è un braccio, ma ci sono dei device, come c'è su un telefonino, c'è una telecamera, c'è un polpastrello, c'è un sensore, come sugli orologi. Stiamo lavorando sugli smartwatch per portare con un importante progetto il medico qua sopra, perché è importante da questo punto di vista. Quindi la potenzialità è quella di portare la flessibilità e la velocità, ma soprattutto l'efficacia della relazione umana nel mondo digitale, con una capacità di gestire attraverso la videocomunicazione i processi di vendita, quindi non purtanto la relazione, e, aperte virgolette, telecomandando delle soluzioni che consentono di replicare delle azioni. Se devo consegnare qualcosa ci sarà un dispenser che lo farà per me.